in realtà arriva e basta cioè questo è andato io solo la tua cosa cazzo scambi c'erano dei mini e ho detto mi ferma questo è cazzo guarda guarda io si è imboccato oddio io è imboccato questo è europeo datoriamo il terzo? sarebbe la rossa questo è solo questo è solo è bianco qua da me l'ho craccato uno dentro è white white boxato no uno da me oh mio dio c'è anche l'altro lo stavendo 44 oh mio dio è attaccato è attaccato attenta lancia missili è giusto lo bianco ancora dove è? dove è? dove è? dove è? dove è? dove è? morto uno questo è quello bianco ragazzi i naighe i naighe per lo carampino meno 20 20 raga qui c'erano i bianchi 3-3 che devra posso cadere? 28 bianco 0 è qua 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 tetto tetto funziona? da me un'altra da me un'altra vai io te lì vai io te lì vai io te lì stai arrivando stai arrivando uno sale uno sale da me rotto 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 questo qui sotto laura è creccata arriva 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 dammi un secondo dove è andato? non lo so dove lo inseguo? è bianco a nord sto sotto di me eccole là 48 vai da lui vai da lui morte morte tutti morti ho il let gente qui 0 ci sono 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 mi lancia missile ragazzi c'è un'altra team a nord eh sì doveva fa questa ragazzi 36 36 36 bianco bianco bravo sopra di me rotto rotto sopra sopra rotto rotto pure questo death death all death all death andiamo davanti ragazzi stai un team qua 220 questi ci snaperavano adesso sta di cazzo stai a fare la sola o se non è andata no 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 l'ho bloccato 0-30 vai spara qua spara aspetta aspetta 0-8 l'hai stato no 0-16 alla gente lì meno 36 meno 36 bianca questa bianca questa mese quello che vale bianco quello che vale bianco il primo venti bianco venti bianco venti bianco venti bianco sono dentro il pieno dentro il pieno meno 40 credo crazy di morti sta vincita sta vincita dentro io lo faccio vedere rage dai avete un altro team sopra ragazzi dov'è no guarda tu quello che muro a me 36 bianca rage bravo ragazzi un altro team qua un altro team qua hold on 141 arrivo zero sono morto no no sono vivo sono vivo mi do curare mi do curare mi do curare preso un altro 115 bravo zero c'è un altro team a nord ovest attento zero ha solo il gel no c'è un altro team in life attento dove è andato lasciamolo dai ragazzi continuiamo a fare le kill lasciamolo lasciamolo non ci serve e qui ragazzi ciao questo qui sopra questo qui sopra meno 18 cracker e cracker della fin nera sono loro non avrai no 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 era morto era morto questo è tre 35 35 bravo sto nel boss vetto un altro ok l'altro ma è questo è nella cappata raga no questo è un altro team no no fra ho fatto questo vabbè death or death death fa un altro team ok vai vai sono miei zero ti faccio cadere dentro attento 101 morto death or death death ah io mi hanno taggato ancora vogliamo affetarlo vabbè fra andiamo qua abbiamo paura abbiamo paura abbiamo fatto noi lo sappiamo lo sappiamo lo sappiamo lo sappiamo lo sappiamo lo sappiamo ragazzi ci sono persi una ovest all'aria aperta comunque 36 1 no no freddo non c'è vincenzo no tu hai già ti tirati le spedizioni tranne uno si cazzo tu prendili ti dobbolo no a poterli ma che sta succedendo a poterli guardate lì sarà sempre dall'altra parte senza la jump da qua dietro 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 metti la la devi mettere 36 36 vado sull'altro hike ok vieni qua che mette la jump la mettiamo dopo la mettiamo dopo attenti vieni raggio stanno volando stiamo attaccati ragazzi non ci butta via a tutti io rampino non cazzo non mi dirtelo è lui credo sia lui no tu è morto aprate lì mi cazzo paga c'è uno spara delle antigranate qua sotto ragazzi sta un'altra non c'è un'altra l'altro non c'è un'altra prendo la R che palle Cosa è morta quella Questa è morta Questa è morta 120 Bravissime Cosa è morta Cosa è morta